Che palla, uno ha tutto il tempo di pianificare le cose per bene e poi si riduce a fare le cose all'ultimo momento di fretta e male Sembri mia madre Dici? Sì Ma anche fisicamente? Anche Grazie Quanto tempo hai? Merda, tra 5 minuti arriva il mio fratello, hai visto il passaporto? No, non informa idea del soggetto Basta! Quella donna mi fa venire la pelle d'oca Oh ma tuo fratello è sempre in ritardo, eh? Senti ma non è oggi che inizia lo show però Il mio è l'ultimo volo a partire Guarda che dicono che chiudono l'aeroporto Il mio è l'ultimo volo che parte? Io ho sentito Gianluca, Gianluca ha visto il TG e dice Gianluca non può aver visto il TG perché non ha un televisore, non parla neanche bene l'italiano, non ha una vita autonoma, è svizzero cazzo! Ok, tanto non sono io che parto E infatti sono io! Va bene! Va bene! Me la cavo Ma che stronzata Cioè sei Superman, sei il mio mito, ti ho sempre creduto, mi fido Cioè se sei di Krypton come cazzo fai ad essere allergico alla Kryptonite? Stronzata, è come se io fossi allergico ai Sassolini, alla ghiaia E un'idiazia di fumetto del cazzo Non andare a cagare Vaffanculo il mio passaporto L'hai visto? Ti odio, ti odio, ti odio E le mutande? Ti odio!